Intanto sul fronte delle indagini riflettori sempre più puntati sul contesto del nucleo familiare. Ai giudici il padre della piccola avrebbe raccontato di una patologia psichiatrica della quale sarebbe affetta la moglie immacolata Monti sulla quale gli inquirenti si starebbero concentrando anche ritornando in quella casa dove potrebbero emergere dettagli importanti mentre si mette a fuoco il contenuto di una intercettazione ambientale nella stanza del commissariato nocerino tra i genitori della piccola e durante la quale i due avrebbero fatto cenno ad un cuscino facendo mea culpa di qualcosa che probabilmente avevano commesso. Le indagini degli uomini del commissariato nocerino sono volte ad accertare anche le condizioni di salute della piccola Yolanda attraverso certificazioni sanitarie di visite mediche a cui sarebbe stata sottoposta dalla nascita fino al maledetto venerdì sera.